Ciao a tutti, sono Emanuele, l'artista sociale, ci stiamo divertendo un mondo, sono qui con Lazzaro, Francesco e Francesco, soprattutto perché questa è casa sua, ci ha fatto una cena stupenda oggi, ma non solo, ha ospitato, da quando io ho fatto il video per aiutare Lazzaro, Lazzaro l'ha ospitato lui per due settimane e lo voglio ringraziare di cuore Francesco, grazie mille veramente da parte mia e da parte di Lazzaro, è stato un piacere E poi vogliamo ringraziare tutti quanti, perché Lazzaro cosa è successo? Eh perché è successo la me di questo, non l'abbiamo fatta, il biglietto, e andiamo Il biglietto del Brasile, ma quando è che parte Lazzaro? Domani? No eh, se sbagliamo Facciamolo, guardate qua Eh qua non se ne dica niente Eh non se ne dica niente, vabbè comunque parte domani Domani, 11 e 40, aspetta, è che io voglio essere le cose precise 11 e 45, domani mi tocca mettere la sveglia presto Esatto E allora prima di cominciare, perché io ovviamente ho scritto una canzone per questo evento Dal titolo Il mio Lazzaro, volete dire qualcosa? Volevo solamente ringraziarti A te, a Francesco soprattutto, perché mi ha ospitato tantissimo tempo Mi ha fatto veramente un piacere E anche io ringrazio tantissimo E io voglio ringraziare, vabbè intanto voglio dire che la convivenza con Lazzaro è stato speciale Sono stato molto contento di averlo qui Che bello raga E un free da dormire è stato un bellissimo regalo anche per me E soprattutto voglio ringraziare Emanuele Che è un grande artista che io supporto in cui credo tantissimo Farò il massimo E mi possa sicurare che lui ha fatto un bel po' di miracoli E questo è uno di quelli Grazie ragazzi, io faccio il possibile Dai ragazzi, abbiamo creato una famiglia Io questa è la cosa più bella Io voglio salutare Maurizio infatti che ha aiutato anche lui Lazzaro Sì infatti, sì Grazie Maurizio Grazie Maurizio, grazie mille E niente, sono un po' di volte che registriamo Come vedete questa sta venendo meglio di tutte le altre Come avevamo detto Assolutamente Vedete perché c'erano più cose da dire Che non erano state dette all'inizio Quindi siamo pronti adesso per dire Grazie a voi un'altra volta E per dedicare questa canzone a Lazzaro È passato tanto tempo dal tuo ultimo respiro Sempre tu per la strada ti ha giocato un brutto tiro Ma pregando tutto il giorno il biglietto ti è arrivato Un ringraziamento va Francesco che ti ha ospitato Quando mi ricapiterà Di incontrare il mio Lazzaro I tuoi passi fanno sempre più lontani Il mio Lazzaro In Brasile volerai La tua famiglia riabbraccerai L'amicizia è davvero qualcosa di speciale C'è chi è buono, chi è gentile Le persone sono rare E adesso tutte quante le vogliamo ringraziare Quando mi ricapiterà Di incontrare il mio Lazzaro I tuoi passi fanno sempre più lontani Il mio Lazzaro In Brasile volerai La tua famiglia riabbraccerai Fiesta Brasil Fiesta Brasil Fiesta Brasil Vamos Lazzaro Quando mi ricapiterà Quando mi ricapiterà Di incontrare il mio Lazzaro Tutti insieme I tuoi passi fanno sempre più lontani I tuoi passi fanno sempre più lontani Il mio Lazzaro In Brasile volerai La tua famiglia riabbraccerai Dai ragazzi Grazie E andiamo Grazie a tutti Grazie mille Grazie mille Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.